Cari compagni e cari compagni, buonasera. È una grande emozione ritornare in questa città, dove ho vissuto dieci anni, dove ho conosciuto voi, tutti quei compagni e quelle compagne, gli amici che qualche mese fa erano là a sostenere Palagonia Benecomune. E ritornare stasera in questa città, avere la possibilità, poco fa qualcuno mi diceva che negli ultimi cinque mesi non ti sei fatto vedere, la fiducia della gente è stata talmente alta a Palagonia che già il giorno dopo i comunisti erano là a governare quella città saccheggiata, devastata dalla stessa destra che ancora oggi viene a reclamare un voto per questa Sicilia. Quella città che proprio tre anni fa, ormai mancano pochi giorni, per mano di carnefici chiamati Ugo Bellavia, Salvo Pogliese, sgomberava il CPO Experia a Catania. Quella stessa città che la mattina nella sua rappresentanza massima del sindaco Raffaele Stancanelli girava qua a prendere il caffè con i suoi galoppini mentre centinaia e centinaia di persone in questo palazzaccio nella prefettura di Catania reclamavano l'amore e dignità. E questa è la città che ci hanno lasciato. E vi dicevo è veramente una grande emozione, innanzitutto perché abbiamo fatto una scelta a Palagonia, anzi io ho fatto una scelta, noi veniamo da là, stasera c'è stato il comizio e non ho partecipato a quel comizio pubblicamente. Che abbiamo fatto la scelta che quando si ci trova ad amministrare una città, una città che ha tanti problemi, il sindaco almeno dal pubblico si deve astenere da fare la campagna elettorale. Ma stasera sono qua più che investire da sindaco da militante del partito della rifondazione comunista.